In una grande casa di periferia di una grande città viveva un cane investigatore ghiotto di cioccolato. Quando non ero fuori per lavoro a caccia di ladruncoli, il cane investigatore amava passare i suoi pomeriggi sul divano a fare zapping. Un bel giorno, mentre pigiava tasti sul telecomando, sentì un rumore provenire dalla cucina. Al ladro! Al ladro! Qualcuno gli aveva prosciugato tutto il barattolo di cioccolato. Allora il cane investigatore andò a cercare il ladro che gli aveva mangiato tutto il cioccolato. Seguì delle impronte sospette che gli fecero percorrere tutta la città fino ad arrivare ad un parchetto. Lì incontrò un omino di Lego che lo stava aspettando sulla panchina. L'ho preso ladruncolo di cioccolato. Ma che ladruncolo? L'ho fatto per farti uscire di casa che eri sempre davanti alla tele. Hai ragione, è bello stare fuori e incontrare nuovi amici. E' bello stare fuori e incontrare nuovi amici. E' bello stare fuori e incontrare nu. E' bello stare fuori e incontrare nuovi amici. E' bello stare fuori e incontrare nuovi amici. Grazie.